Buongiorno a tutti da Pancopallino Oggi ci troviamo davanti al Teatro Civico di Norcia E in sottofondo si sente il suono delle campane Perché oggi, domenica 10 giugno, laggiù dove ho inquadrato adesso C'è il raduno nazionale dei campanari E quindi ci vediamo dopo a riprendere tutte le campane che suoneranno al raduno Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!